cosa succede se troviamo quindi un animale ferito sul territorio un cane che è stato avvenato un gatto randaggio che è stato investito molti mi dicono chiamo il 112 che ormai è il numero unico di emergenza in quasi tutte le regioni o comunque se c'è in quella regione c'è il 113 comunque chiamo il numero di emergenza della polizia e carabinieri e mi viene risposto non non è competenza nostra possono rispondere in questo modo la risposta è sì perché perché la polizia e i carabinieri devono essere attivati quindi devono intervenire hanno l'obbligo di intervenire soltanto se si sta configurando un reato sugli animali il cane randaggio il cane randaggio è stato investito posso chiamare la polizia scusate posso chiamare la polizia di stato perché il cane è stato investito la polizia di stato all'obbligo di intervenire sul cane randaggio in questo caso la risposta è no una persona ha investito volontariamente quindi ha voluto colpire con la macchina un cane randaggio chiamo la polizia la polizia ha l'obbligo di intervenire assolutamente sì perché perché in questo caso si sta commettendo il reato di maltrattamento di animali quindi vuol dire che quella persona ha volontariamente voluto investire l'animale quindi se si commette un reato a danno di un animale che sia privato o randaggio le forze dell'ordine hanno il dovere di intervenire se invece non c'è un reato quindi il cane o il gatto quindi quell'animale randaggio è stato investito a sta male c'è una necessità l'obbligo ad intervenire è solo ed esclusivamente della polizia municipale la polizia locale quindi la polizia che opera in quel territorio perché proprio perché la competenza è del comune la proprietà del comune quindi se voi segnalate un reato che è commesso sugli animali randaggi e allora qualsiasi forza di polizia all'obbligo e il dovere per legge di intervenire altrimenti sono perseguibili penalmente ai sensi dell'articolo 328 del codice penale omissioni datti d'ufficio perché quelle competenza è un dovere delle forze dell'ordine se invece si tratta di un animale randaggio ripeto che ha solo esclusivamente necessità di essere curato sta male è stato investito qualsiasi altra cosa la competenza esclusiva in quel caso è della polizia municipale che ha ripeto e sottolineo l'obbligo di intervenire non vi possono dire qui rispondo un'altra domanda che ho letto oggi mi rispondono no non possiamo intervenire perché nel nostro comune non esiste il canile non c'è una convenzione con un veterinario non c'è niente di niente questa non è una giustificazione perché per legge il comune ha l'obbligo di avere innanzitutto un canino rifugio sanitario seconda cosa se non ha una struttura propria quasi tutte le leggi regionali hanno nei propri vari articoli l'obbligo appunto per l'ente comunale di attivarsi con una specifica convenzione faccio l'esempio il comune di di trapani per esempio dove la mia città ha un canile se canile un parolone comunque a una struttura ma non hanno all'interno un ambulatorio veterinario cosa fanno fanno morire gli animali randaggi che vengono investiti assolutamente no il comune è convenzionato con un ambulatorio privato ok quindi convenzionato con un ambulatorio privato gli animali vengono portati lì c'è una convenzione voi mi direte e cosa succede se il comune sta facendo già di per sé un omissione perché non ha neanche una convenzione con un ambulatorio privato o una clinica veterinaria non può intervenire perché non c'è la convenzione assolutamente no perché perché ripeto sottolineo c'è uno una una legge dello stato italiano che parla chiaro la responsabilità è dei comuni tra l'altro ci sono già anche numerose sentenze della corte suprema di cassazione che hanno proprio ribadito questo quindi cosa vuol dire il cane viene investito il comune è talmente inefficiente che non ha canile non ha fatto mai una convenzione con un veterinario eccetera il cane muore strada allora assolutamente no se i vigili vi rispondono e ma noi non abbiamo appunto una convenzione come possiamo fare semplice la polizia municipale avvisa l'assessore competente alla tutela degli animali del comune l'assessore o il sindaco addirittura in prima persona viene emessa un ordinanza contingibile e urgente che vuol dire che praticamente il sindaco autorizza la polizia municipale in quel caso il veterinario privato a prestare soccorso all'animale perché c'è un'urgenza e quindi in quel momento il sindaco può stanziare i soldi necessari per far curare l'animale ok quindi il succo qual è non può essere lasciato morire un animale in strada per nessun motivo la responsabilità degli animali che vivono in strada e dei comuni e quindi loro hanno il dovere sacro santo di intervenire se non intervengono se non intervengono quello che dovete fare è molto semplice per conto che siete da soli nessuno vi ascolta nessuno vi dà aiuto prendete il cane voi questo proprio ultima cosa prendete il cane voi lo portate voi in un ambulatorio veterinario privato pagate vi fate rilasciare una fattura che dovete già intestare al comune la fattura deve essere intestata al comune perché il cane è randaggio la fate intestare al comune dopodiché fate una richiesta di rimborso al comune dove è stato soccorso il cane e fate risarcire soldi qualcuno dirà ma mi daranno subito no non vi prendo in giro perché purtroppo passa tempo ma i soldi vi devono essere restituiti oltre a questo che ovviamente un discorso solo di riavere i soldi indietro che uno di noi è uscito e non doveva perché doveva pagare il comune un'altra cosa che dovete fare è fare una denuncia ai carabinieri o alla polizia di stato vi dovete dovete assolutamente denunciare l'omissione della polizia municipale perché una situazione del genere è perseguibile penalmente la polizia municipale non si può rifiutare per nessun motivo di intervenire assolutamente ok questo è quello che io ci tenevo a dirvi ovviamente provo a leggere qualche vostra domanda vediamo e leggo i vostri commenti massimo dice ma tutti i comuni sono obbligati a essere convenzionati è vero tutti i comuni sono obbligati a essere convenzionati ma il 70 cento dei comuni ti posso garantire che non ha neppure una convenzione